Non mi comprometta, io ho già soltanto comprometta al paese mio, io vivo in un paese mafioso, ha capito? E essere dei 5 Stelle già è un disonore, ha capito? Siamo venuti, almeno personalmente, per la fiducia, la questione della fiducia secondo me è inaccettabile. E' il motivo principale, poi la legge è quella che è, ma mettere la fiducia è qualcosa che veramente dà fastidio. Sa di Sud America, diciamo così. Mi sembra nel 1953 che è stata messa la fiducia su una legge elettorale, il presidente del Senato allora si dimise. Ecco, hanno fatta per sfavorire i 5 Stelle e c'è un popolo che è rivolta pacificamente, i 5 Stelle hanno incanalato una rabbia e questi sono i risultati. Un presidente della Repubblica, non sappiamo chi è e che cosa fa. Meno male che è un giudice della Costituzione, è già approvata una legge elettorale incostituzionale. Adesso speriamo che non dà l'ok anche a questa. Noi qui siamo tutti del 5 Stelle quelli che siamo qua, ma quello che invitiamo a fare alle persone è venire in piazza a protestare per i propri diritti. Quindi qui non ci devono essere solo i 5 Stelle, ci devono essere anche gli italiani che pretendono la libertà. Sono venuto a questa manifestazione perché ritengo che questa legge elettorale, così come è stata proposta al Parlamento, toglie la rappresentatività al popolo. Per cui sostanzialmente il popolo non potrà decidere il proprio candidato, ma non solo. Non sarà neanche libero di esprimere la propria preferenza e di avere la sicurezza che quella preferenza vada esattamente a quel partito o a quel candidato. in quanto le coalizioni sostanzialmente a livello proporzionale non danno la certezza che l'espressione di voto vada esattamente nella direzione dove viene espresso. Cioè ad esempio in una coalizione dove abbiamo 10 simboli, se io scrivo un simbolo a fianco del nome del candidato che voglio che venga eletto, in realtà quel voto andrà al candidato di lista in base ad un listino predeterminato e quindi in base poi alla proporzione che avrà il partito in quel determinato collegio. Per cui sostanzialmente il voto è falsato, non è un voto diretto. Già siamo stanchi, il popolo si sente e si ribella alle nostre spalle perché è giusto, sono tanti anni che non riusciamo a votare i nostri candidati, non c'è più quella rappresentatività, quindi quel mandato di rappresentanza nei confronti dei parlamentari, ma vengono fatti sostanzialmente nelle segrete stanze dei palazzi e dei partiti le liste di nomi e nominati tra parenti, amici e conoscenti, togliendo completamente la possibilità di raccogliere voti e sbilendo anche quella che poi è la campagna elettorale per il Parlamento che rappresenta la nazione sostanzialmente. Quindi ritengo che non è un fatto che danneggi o meno il Movimento 5 Stelle che sicuramente ne verrà danneggiato da questa legge elettorale, ma danneggia comunque qualunque tipo di forza politica che voglia tentare di andare al governo da sola. Questo non deve essere giusto in una democrazia perché se c'è una forza politica che vuole riuscire a tentare la scalata e quindi giustamente ad andare da sola al potere come maggioranza, quindi come forza di maggiore rappresentatività del territorio, non può essere svilita questo potere da un cicellum, anzi io lo ribattezzerei gallinellum. È bello dire gallinellum perché abbiamo tanti galletti che cercano di primeggiare, ma non vogliono primeggiare nelle piazze, vogliono primeggiare nei palazzi e quindi questo è un qualcosa che toglie a noi quella speranza di tornare in una democrazia. Questi temono il voto e quindi con questa legge lo hanno annullato in modo che loro si autorizzino a governare per altri cinque anni perché temono il voto perché hanno capito che in realtà la gente è stanca e che se vanno al voto liberamente, e voglio dire la legge non sarebbe quella che in realtà hanno approvato, probabilmente questi signori disoccupati a vita e questo è il problema, non hanno fatto altro negli ultimi 50 anni che fare parlamentare, ci sono persone in questo Parlamento che occupano degli scranni, dai 50 anni noi li paghiamo e hanno accumulato vitalizzi in 30-40 anni, noi paghiamo pensione a persone che sono venute qua per tre giorni ma ci rendiamo conto? Cioè io cito Cicciolina per esempio, che sta in realtà percependo 3.000 euro al mese o 2.500, non mi ricordo, la Zanicchi che ha fatto sempre spettacolo solo perché era una persona che piaceva a Berlusconi, si è ritrovato a fare il parlamentare europeo e comunque percepisce dei vitalizi, è vergognoso, cioè il popolo si deve svegliare, lo deve capire che questo di oggi, questa manifestazione di oggi, serve a risvegliare un po' le coscienze, a far capire alle persone che comunque se va avanti questo andazzo i figli non hanno più futuro, devono andare via dal paese. Noi siamo contenti che finalmente ci sono dei cittadini che si svegliano, non vogliono stare con gli occhi bendati. Noi quello che adesso dobbiamo fare è far capire a tutta la cittadinanza che questa legge elettorale e quindi il voto che poi chiederanno ai cittadini è un voto truffa, quindi si voterà per un simbolo ma questo voto andrà a tutt'altra parte, addirittura a tutt'altra regione, quindi loro hanno creato un sistema in fin dei conti per restare incollati a quelle poltrone. La domanda che ci siamo sempre posta è ma come mai non cambia nulla, come mai ci sono sempre gli stessi? Ecco, oggi la risposta ce l'abbiamo perché vi possiamo dire, perché li vediamo con i nostri occhi, siamo testimoni oculari, vi possiamo dire perché cambiano le regole, cambiano le carte, cambiano le norme affinché qualsiasi cosa succeda loro possano sempre sedersi su quelle poltrone. Io spero solo che gli italiani si sveglino e soprattutto quelli che non votano, gli astensionisti, si facciano una semplice domanda, perché tutti contro il Movimento 5 Stelle? Devono andare a casa, tutti, tutti devono andare a casa, c'è bisogno che entri la gente per bene, la gente comune, perché dobbiamo continuare a dare soldi con la palla a Napolitano? Diamo i soldi alla povera gente, diamo i soldi ai disoccupati, facciamo girare la moneta, questo ci vuole, ci temono, ma noi stiamo arrivando, siamo l'onda che vi travolgerà. Abbiate paura di noi, abbiate paura di noi arrabbiati, perché noi siamo il popolo degli arrabbiati.